bene amici di hd motori sono appoggiato alla nuova 500l versione trekking cosa cambia dalla 500l che abbiamo provato non molto tempo fa beh prima di tutto è più alta da terra circa 15 mm poi ha protezioni al sottoscocca per evitare che una strada bianca con questa 500l trekking possiamo tranquillamente percorrere quindi sassi o qualsiasi tipo di problematica rovini gli organi meccanici inferiore e poi soprattutto fiat la dota già di serie di più di pneumatici m più s ma che comunque vanno bene per tutte le stagioni noi abbiamo la versione 1.6 multijet da 105 cavalli disponibile anche il 1.3 multijet che disponibile anche col cambio automatico oppure due versioni a benzina il bicilindrico twin air che abbiamo imparato a conoscere nella prova che abbiamo fatto della 500l e il 1.4 sempre benzina davanti a una griglia che è leggermente più aggressiva della 500l standard posizione di guida un pochino più rialzata anche al posteriore abbiamo delle finiture specifiche per questa versione ma adesso andiamo a vedere come va su strada e anche su un piccolo pezzo di fuoristrada bene allora eccoci al volante della 500l trekking vi ho parlato prima di altezza suolo diversa vi ho parlato di differenze estetiche rispetto alla 500 standard noi stiamo provando la versione 1.6 diesel multijet e devo dire la verità rispetto alla versione 900 twin air pur avendo gli stessi cavalli ha una coppia superiore soprattutto più in basso quindi una piacevolezza di guida migliore di contro il rumore del motore non è così più elevato rispetto al bicilindrico col suo rumore stile caffettiera tra tra virgolette vi parlo del cambio frizione leggermente gommosa ma forse meno rispetto a quello che ho trovato sulla versione benzina cambio a 6 marce il cambio è ben è ben rapportato e soprattutto ha degli innesti abbastanza precisi non ho notato nessun tipo di problema è la nostra è una preview quindi una prova di pochi chilometri infatti un centinaio tra strada urbana siamo partiti da milano siamo arrivati alla abbazia di morimondo quindi mi ha fatto un po di extra urbano e anche un pochino di fuoristrada che vedrete alla fine curva mi dà l'input per parlarvi di sterzo che abbastanza preciso ecco alle medie alte andature si sente quella rialzo rispetto alla l standard ma soprattutto è la gommatura m più s che dà un senso di maggior gommosità del volante comunque proprio un'inezia si guida molto facilmente soprattutto in città grazie al tastino city che permette di alleggerire molto il volante volante che ha degli ottimi comandi perché sono raggruppati sulla destra sulla sinistra sulla sinistra inizio fine chiamata e volume sulla destra il comando dell'infotainment infotainment che è lo uconnect di ultima generazione che ha finalmente il tom tom integrato quindi una buona navigazione perché tom tom è uno dei migliori anche una buona velocità oltre a darci tutti i parametri della guida alla radio e leggere chiavette usb esattamente come sulla trekking scusate sulla 500 l standard vi parlavo del motore allora consumi noi in questi 100 chilometri abbiamo provato ad alzerare il trip quindi è un dato prendetelo con le pinze in media lo abbiamo usato un pochino più del normale perché durante test drive si schiaccia leggermente più il trip ci dice 8 litri ogni 100 chilometri quindi più basso ovviamente del consumo del bicilindrico benzina a parità di potenza ricordo i 105 cavalli rotatoria bene handling è buono la macchina è tarata soft anche perché in fuoristrada così riesce a sorbire meglio meglio le buche ovviamente se esageriamo nel prendere le curve il comportamento è sottosterzante ma sempre molto molto ben controllabile ripeto la gommatura m più s fa perdere un minimo di precisione di guida e di tenuta di strada ma davvero aiuta in situazioni particolari in sonorizzazione buona l'abbiamo usata anche in in autostrada con senza problemi ora ci fermiamo al semaforo metto in folle e il motore si spegne a uno start and stop che funziona bene sempre entrato nelle nostre soste durante questa prova quindi nessun problema per quanto riguarda lo start and stop anche la climatizzazione riprende ovviamente quella di di 500 l io mi trovo molto bene al posto al posto di guida anche luca sulla 500 l sarà trovato molto bene climatizzazione comunque potente divisa lato destro lato sinistro molti cassettini porta oggetti tra l'altro quello superiore anche rinfrescato sedili parzialmente in pelle parzialmente in tessuto molto bello il colore dei dei sedili una plancia che riprende paro paro quella di 500 l piccola nota sul sistema infotainment perché con le casse beats audio suona veramente molto molto bene speriamo di averla in prova per una prova più approfondita per queste prime impressioni è tutto e adesso andiamo un attimino in fuoristrada bene il pezzettino sulla strada bianca ci fa apprezzare le doti di altezza da terra perché sono 15 mm in più rispetto alla versione standard di 500 l e anche le doti delle sospensioni noi stiamo facendo una strada ovviamente non impegnativa non siamo su una vettura a quattro ruote motrici ma abbiamo qua dietro la leva del cambio il pulsante traction plus cosa fa il pulsante traction plus che ho appena inserito quando sente che una delle due ruote motrici anteriori sta per perdere grip sposta la coppia all'altra ruota anteriore così facendo una ruota magari ha più grip dell'altra e si riesce a uscire magari anche da situazioni più impegnative qua abbiamo un collega che salutiamo test drive cumulativo per per noi giornalisti stiamo facendo un centinaio di chilometri altra cosa che differisce da questa trekking rispetto alla versione diciamo standard tra virgolette è la possibilità di avere montare di serie i pneumatici m più s pneumatici m più s che garantiscono anche in questo caso di strada bianca un maggior grip ovvio è una strada che potremmo fare con qualsiasi berlino non troppo bassa ma comunque si apprezzano anche le sospensioni perché le sospensioni di questa trekking sono studiate per assorbire un po meglio le asperità altra differenza rispetto alla 500 l standard la protezione del sottoscocca quindi anche in questa casa in questa strada io non mi devo preoccupare di eventuali sassi che vengono sparati dalla dalle ruote perché nel sottoscocca ho la protezione degli organi meccanici quindi prime impressioni sulla strada bianca gran comfort devo dire perché anche la strada è piena di buche ma non ho particolari problemi e soprattutto un grip che mi sembra buono adesso su questa strada provo a accelerare a fondo e sento come il traction più distribuisce la coppia su ruote anteriori per farle slittare il meno possibile per hdmotori andrea galeazzi